Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in primo Pietro 3,7, ma il messaggio di questa mattina è molto bello. Dice, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Noi preghiamo tante volte e non vediamo risposte. E diciamo, ma Dio, a certe volte la colpa è nostra. Tu dici, ma come può essere? E perché noi diciamo in un modo e agiamo in un altro. E allora succede che le preghiere non vengono risposte. Leggiamo questo verso che ci aiuta a comprendere. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Ecco, già questa è una cosa. Fratello, devi avere il riguardo per tua moglie. Cominciamo bene. Come un vaso più delicato, onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Sorrei però non alzare troppo la coda stamattina che parla ai mariti. Vedi che ci sono altri versi che dicono di comportarti bene con tuo marito. perché qui nel contesto la parola del Signore parla a tutta la famiglia. Ti raccomando che ci sia equilibrio nella tua vita, marito o moglie che tu sia. Ma se guardiamo nel verso 8, ci sono anche i figli. Leggiamolo insieme. Infine, siate tutti concordi. Metti per cortesia, rosso su, siate tutti concordi. Questa è la famiglia completa. Ci riesci? Siate tutti nella famiglia, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. non solo la famiglia naturale, no, tutti concordi devi mettere. Tutti perché, tutti, la famiglia spirituale e la famiglia naturale, la Chiesa e la famiglia, tutti concordi. Va bene, non ti preoccupare, come se l'avessimo fatto. Le vostre vuol dire nella famiglia, c'è scritto solo la moglie, qui, però nel verso 8 dice tutte. E allora questa mattina, eh, grazie, questa mattina il Signore sta parlando ad ogni membro della famiglia. E se allarghiamo un poco di più la famiglia cristiana che è la Chiesa, allora tutti. Perché le vostre preghiere possono essere impedite. Possibile che c'entra una cosa con l'altra. tutta la famiglia dobbiamo parlare sempre bene. Avere un modello di vita rapportata una unione come se fossimo un pezzo solo. Leggiamo il verso 9. che sia nella nostra famiglia e nella nostra Chiesa. Non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio. Ah, gliele devo far pagare questa, eh. Ma al contrario, sorella, fratello, al contrario di come si comportano intorno a noi e a volte siamo noi, benedite. poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Che ci sia sempre un'atmosfera diversa dal mondo benedicendo ed essere per essere benedetti. La chiave per essere benedetti dobbiamo benedire. perché quando benediciamo gli altri diciamo il bene degli altri ritorna su di noi. Gloria sia resa a Dio. Quando noi benediciamo gli altri il bene viene su di noi. Oh, gloria al Signore. Bellissimo. Noi quando benediciamo gli altri il bene viene su di noi. Meraviglioso. Un'atmosfera diversa dal mondo. Benedicendo è la chiave per essere benedetti. Non lo sapevi? Adesso lo sai. E vede ora che lo metti in pratica. Puoi essere benedetto. benedici. È come dire scrivi una lettera che ricevi una lettera. Mai scrivi mai ricevi una lettera. Se vuoi la comunicazione con le persone. Adesso potremmo dire vuoi mantenere un rapporto di comunicazione su su Messenger. Manda un messaggio ricevi un messaggio. Non mandi messaggi dopo due giorni si chiude la partita. Se mandi messaggi ricevi i messaggi. Non li mandi non li ricevi. I social sono fatti così. Ecco questi principi ci aiutano a comprendere quello che sto dicendo. Leggiamo adesso nel verso 10. Meraviglioso questo. Infatti chi vuole amare la vita e vedere giorni felici la prima cosa deve trattenere la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Qui ci vuole la mano di Dio veramente. la formula universale per la famiglia che include la famiglia spirituale e la famiglia naturale. leggiamolo leggiamolo un'altra volta perché questo dobbiamo memorizzarlo. Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. La formula universale per la famiglia include famiglia amici nemici e gli altri tutti. Non pensare che in famiglia mantieni questo sistema e sul posto di lavoro fai diversamente perché sennò il fuoco si accende lì. No, dice vabbè io mantengo calmo in famiglia perché in famiglia voglio stare in pace. Sul lavoro però spiffero da tutte le parti e ti rovini l'ambiente è là. Ci va bene il lavoro perché ci sto otto ore la famiglia perché poi ci sto le altre ore le altre sedici ore cerco di mantenere bene però poi tra gli amici quando vado fuori là no leggiamolo un'altra volta per cortesia perché o facciamo i cristiani o se no non lo siamo chi vuole amare la vita e vedere giorni felici trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso la formula universale per la famiglia include famiglie amici nemici e gli altri tutti ciò vuol dire che questa formula deve prendere possesso nella nostra vita perché è parola di Dio ti è chiaro comincia a memorizzare queste cose perché questo ti cambia la vita e questo ti fa avere risposte alla preghiera fa parte di quello che abbiamo letto nel verso 7 che ti voglio rileggere affinché le vostre preghiere non siano impedite se riesci a metterci il rosso va bene se non ci riesci non succede niente affinché le vostre preghiere non siano impedite tutti desideriamo di pregare e ricevere risposte però ci deve essere un'atmosfera e se la mantieni solo tu e non imponi agli altri di fare la stessa cosa nella tua casa allora non funziona se tu cerchi di tenere la casa pulita e poi vengono gli altri e portano l'immondizia a casa tua e tu stai zitto la puoi pulire quando vuoi la casa sorella ascolta bene però te la portano gli altri e tu stai zitta e tu stai zitto fratello vuol dire che tu cerchi di mantenere pulito e gli altri ti portano l'immondizia a casa e tu guardi e stai zitto e stai zitta che succede hai sempre la casa sporca non è mai pulita queste formule sono importanti perché noi dobbiamo vigilare su noi e nel piccolo nucleo dove siamo noi dove ci muoviamo lì dobbiamo creare un'atmosfera diversa perché noi siamo diversi perché noi preghiamo perché noi manteniamo un rapporto di continua comunione con Dio e quando preghiamo desideriamo che il Signore risponda questa formula c'è un verso che viene riportato dal Salmo leggiamolo insieme nel Salmo capitolo Salmo 34 dal verso 12 al verso 13 chi è l'uomo che desidera la vita che brama lunghi giorni per poter gioire del bene trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiare questi versi sono i requisiti necessari questo può essere applicato solo se restiamo sotto l'autocontrollo dello Spirito Santo cioè che è uno dei frutto è uno del frutto dello Spirito Santo l'autocontrollo spirituale noi non ci riusciamo da soli abbiamo bisogno di mantenere un filo di comunione costante con lo Spirito Santo allora ci riusciamo se no questa qui questa non si ferma neppure se la tagli si lamenta dopo il frutto dello Spirito e dobbiamo vigilare la lingua dice ancora di più Giacomo nel capitolo 3 verso 5 dice che è un elemento pericoloso così anche la lingua è un piccolo membro e questo quanto è piccolo eppure si vanta di grandi cose osservate un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta vedi per spiegare la pericolosità di questo piccolo membro questo mio questo tuo ascolta bene descrive la grandezza dei danni che porta infatti la seconda metà del verso leggiamolo un'altra volta perché è parola di Dio osservate un piccolo fuoco incendia una grande foresta non sta parlando bene sta dicendo il danno che porta su larga scala difficile da poterla fermare hai visto le città che si sono incendiate in America in Grecia in giro per il mondo tutto è partito da un piccolo cinque seicento pompieri case bruciate dovuto a un fiammifero hai visto questa immagine ci aiuta a comprendere il danno che porta noi pensiamo che costa da poco ed è responsabile di grandi cose può essere anche in bene se la usiamo bene perché un fiammifero può essere usato anche bene la mattina per accendere il fuoco in casa va usato bene per fare il caffè può essere usato bene per accendere il gas può essere usato bene ora dipende noi come lo usiamo leggiamo nel verso 6 ci può distruggere da andare a finire all'inferno anche la linqua è un fuoco è il mondo dell'iniquità posta fra le nostre membra contamina tutto il corpo è infiammata dalla genna genna è l'inferno da fuoco al ciclo della vita sono tutte frasi che ci aiutano a comprendere che la lingua ci può portare all'inferno può essere ma io sono salvata ma io sono salvato sì la lingua ti può portare all'inferno la dobbiamo tagliare allora Gesù dice se il tuo braccio ti fa peccare taglialo se il tuo orecchio ti fa peccare se il tuo occhio ti fa peccare cavalo e secondo me dobbiamo tagliare pure la lingua ma il Signore non vuole gente monca gente senza lingua gente senza occhi gente senza bracci perché senza braccia perché i credenti dovrebbero andare così tutti in chiesa ma è figurativamente meglio che la tagli tagliala subito perché qui dice che ci porta nella genna Signore aiutaci fa male distrugge tanto distruttiva che chiude con l'inferno leggiamo come chiude questo verso non è un esempio favorevole infiammata dalla genna da fuoco al ciclo della vita la nostra vita è un ciclo tutta la vita finché arriviamo nell'inferno questa qui ha questa possibilità e perciò dobbiamo stare attenti male che distrugge tanto distruttiva che chiude con la parola genna noi e tutta la famiglia tutti quando non siamo concordi nella famiglia succede così leggiamo primo Pietro 3.8 e ciò dobbiamo essere tutti concordi nella famiglia di pensare allo stesso modo e stare attenti infine siate tutti concordi compassionevoli pieni di amore fraterno misericordiosi e umili riusciamo ad essere tutti così nella famiglia e nella famiglia spirituale nella chiesa riusciamo ad essere così leggiamolo un'altra volta infine siate tutti concordi compassionevoli pieni di amore fraterno misericordiosi e umili il verso 7 dice che se siamo così le preghiere vengono esaudite affinché le vostre preghiere non siano impedite allora l'atmosfera è importante è facile che in questo momento stai riflettendo e dici frate stai esagerando ma come faccio io a mantenere tutta la famiglia quando quelli sono diversi io non ci riesco e lo so che non ci riesci noi non ci riusciamo ma se vogliamo che qualcosa campi noi dobbiamo prendere in considerazione che dice la parola del Signore primo Pietro 3 8 dice così leggiamolo un'altra volta infine siate tutti concordi compassionevoli pieni di amore fraterno misericordiosi e umili Signore grazie e noi siamo responsabili a volte noi sentiamo che quelli che ci circondano non sono come noi e noi stiamo zitti dobbiamo stare attenti e quando dobbiamo stare zitti parliamo ecco dobbiamo chiedere al Signore che ci dia l'autocontrollo dello Spirito Santo perciò dobbiamo mantenere un filo di comunione continuo con lo Spirito Santo perché se no non ci riusciamo mi è successo parecchio tempo fa e ancora lo sto facendo funzionare eravamo in prossimità di un risveglio e poi c'è stato un grande risveglio nella nostra Chiesa e questa lingua non si fermava era sempre pronta dal voler rispondere il Signore mi mise nella testa una cosa che non la dimentico mai ognuno che parlava specialmente quelli che avevamo più rapporto mi diceva una voce quando io avevo già la risposta pronta di quello che mi aveva detto giusto per ribattere ciò che mi era stato detto questa voce mi diceva così tu gli devi solo voler bene hai capito oh era una voce poderosa quando volevo rispondere questa voce diventava forte nella mia mente tu lo devi solo voler bene tu la devi solo voler bene mi azettiva ho detto Signore va bene non devi dire neppure mezza parola devi continuare l'argomento come prima nel frattempo è successa una cosa più grande il Signore mi ha chiamato a seguire parole di vita mi ha detto lascia la chiesa perché ero il giorno che ho completato gli anni per andare in pensione secondo le regole delle assemblee di Dio il Signore mi ha detto non continuare lascia perché ti devo affidare il compito di portare avanti parole di vita ho lasciato con la chiesa eravamo stati insieme per 25 26 anni ma più di 40 anni che stavo lì e sai c'era chi la raccontava raccontava calda chi la raccontava fredda il Signore mi disse io ti ho detto che non devi parlare non devi incoraggiare nessuno di venire con te e nessuno che resti dov'è li devi solo voler bene tutti parlavano ha fatto bene ha fatto male ha lasciato la chiesa se pensa tu immagina un po' il Signore mi ha detto tu non devi dire manco pensaparola tutti quelli che parlano li devi solo voler bene si è ampliata la fascia non devi dire a nessuno vieni con me non devi dire a nessuno stati dove sei a te ti voglio a te non ti voglio perché si è formato un gruppetto che ci teneva per la televisione altri non ci tenevano questa parola potente si è incarnata dentro di me e ancora funziona così quando succede uno che mi dice tu le vuole bene basta ho detto in dialetto noi dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti noi siamo responsabili a volte noi sentiamo e non parliamo e quando dobbiamo stare zitti parliamo ma la parola del Signore ci dà la formula che noi dobbiamo usare di converso per dire che ce ne sono tanti ma ci manca il tempo di leggerli tutti la formula d'oro che è Efesini 4 29 nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca questo è quello che mi disse il Signore sta zitto gli devi solo voler bene ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazie a chi l'ascolta questa è è la formula vincente credente che tu ci creda o no questa è la formula vincente per camminare col Signore diversamente non c'è un altro mezzo questa è parola di Dio segnati questo verso prenditi questa formula inculcala dentro di te e vedrai come cambia la vita Signore aiutaci Signore aiutaci Signore aiutaci questa è la formula vincente perché diversamente rattristiamo lo spirito santo leggiamo il verso 30 Signore aiutaci 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 per amore del tuo nome oggi il Signore vuole cambiare la tua vita se tu ascolti con attenzione leggiamo il verso 30 non rattristate lo spirito santo di Dio con il quale siete stati suggellati abbiamo ricevuto il sigillo dello spirito santo per il giorno della nostra retenzione che resta dentro di noi fino al rapimento vuol dire e noi non lo dobbiamo rattristare Giacomo dice così 3, 5 e 6 la lingua porta danno leggiamolo insieme così anche la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose osservate un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta anche la lingua è un fuoco il mondo dell'iniquità è il mondo dell'iniquità posta tra le nostre membra contamina tutto il corpo è infiammata dalla genna dalle forze diaboliche da fuoco al ciclo di tutta la vita e ci porta nell'inferno la formula è giusto il contrario tu le voler bene e basta tu devi voler bene e basta il verso 29 del capitolo 4 di Efesini te lo voglio ripetere 29 30 nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazie a chi l'ascolta e secondo così non si rattrista lo Spirito Santo di Dio con il quale si è stato sigillato per il giorno del rapimento quando il Signore ritorna che dalla nuova nascita fino al rapimento questa è la formula perché lo Spirito Santo risponde alle nostre preghiere è lui che risponde alle nostre preghiere è lui che ci guida a pregare se non abbiamo lui infatti in Romani 8 26 leggiamo insieme allo stesso modo ancora lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene ma lo Spirito Santo intercede gli stessi per noi con sospiri ineffabili allora che cosa succede? noi siamo solo l'interfaccia di Dio lo Spirito Santo ci dice che dobbiamo pregare e noi preghiamo come ci dice lo Spirito Santo senza non sappiamo pregare e non abbiamo comunione con Dio parliamo e che diciamo balbettiamo noi noi siamo l'interfaccia di Dio lo Spirito Santo ci dice come dobbiamo pregare noi preghiamo Dio come ci dice lo Spirito Santo perciò abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo se noi contristiamo lo Spirito Santo non è noi e non riceviamo risposte nelle nostre preghiere allora ci dobbiamo mantenere certo perché se no non riceviamo risposte affinché le vostre preghiere non siano impedite ora c'è l'altra parte come manteniamo la nostra famiglia i nostri rapporti come abbiamo letto in primo Pietro 3 8 leggiamolo un'altra volta noi dobbiamo correggere questa cosa infine siate tutti concordi compassionevoli pieni di amore fraterno misericordiosi e umili ah e come facciamo a portarli così affinché le vostre preghiere non siano impedite ci sono tante preghiere impedite nelle nostre case nelle nostre famiglie perché noi non manteniamo l'atmosfera che dobbiamo mantenere in Efesini 3 15 filippesi 3 15 c'è un'altra cosa che ci serve sia sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi se in qualche cosa voi pensate altrimenti Dio vi rivelerà anche questa anche quella anche questo insegnamento ho detto prima se tu continui a mantenere la tua casa pulita e tutti quelli che vengono in casa tua portano immondizia la tua casa sarà pulita o sarà sporca io dico sarà sporca perché è così allora tu che cosa devi fare non riesci a mantenere come dice la scrittura tutti i concordi tutti che funzionano però attenzione qualcosa la puoi fare devi vietare a quelli che sono in casa tua che vengono in casa tua di portare immondizia in casa tua perché è casa tua sorella casa tua fratello è casa tua dove tu vivi nella tua chiesa dove tu vai allora che dobbiamo fare Dio ci parla e noi dobbiamo fare signore aiuto e noi siamo responsabili ci sono dei credenti che sono maturi ma nella famiglia in casa loro permettono agli altri di accendere il fuoco Giacomo dice nel capitolo 3 verso 6 la lingua accende anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità posta come fra le nostre membri contamina tutto il corpo è infiammata dalla genna dal fuoco al ciclo della vita la formula è come abbiamo detto Efesini 4 29 e 30 lo dobbiamo leggere nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazie a chi l'ascolta perché se no si rattrista lo spirito santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione e noi dobbiamo dire qui qui a casa mia c'è questa formula che io applico perché io prego e tu quando vieni a casa mia non devi portare immondizia quando ci sono io tu non devi portare immondizia in questa casa tu non devi venire accendere il fuoco in questa casa tu non devi dire parolacce in questa casa tu non devi bestemmiare in questa casa o almeno quando ci sono io tu non devi bestemmiare in questa casa perché io sono qui che prego io sono qui che faccio questo non pensare che se tu stai zitta quella persona migliora intanto tu sei responsabile di dire a tuo figlio che non deve bestemmiare quando ci sei tu non deve dire parolacce quando ci sei tu avanza la parola di Dio dicendo io la formula che uso e desidero che tu devi portare quella di Dio quella di Dio dice nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca perciò quando tu vieni qua non mi devi offendere tu offendi Dio e offendi pure me tu sei libero di fare tutto quello che vuoi a casa tua dove ti trovi a casa mia non mi devi far sentire questo questa è la responsabilità che noi abbiamo perché se noi lasciamo portare tutta l'immondizia a casa nostra noi siamo responsabili le preghiere preghiamo e a causa di queste infezioni noi non riceviamo le risposte perché abbiamo una casa piena di immondizia è come dire noi manteniamo caldo e gli altri ci aprono le finestre e la che stiamo sempre freddi dobbiamo trovare i modi di dire ciò che noi siamo e come noi ci muoviamo signore aiutaci è parola di Dio tu per cortesia quando parli devi impedire che Dio non devi impedire che Dio mi risponda noi siamo responsabili noi siamo responsabili noi siamo sentinelle chiamate da Dio signore aiutaci questa mattina sore per piacere frate per piacere tu sei un credente non devi permettere che la tua famiglia in tua presenza agisca così anticipa con la parola del Signore il Signore ti guiderà ogni volta la parola che devi prendere nella Bibbia ce ne sono tante non è che devi prendere sempre Efesini 429 Dio dice così e io ti dico non lo devi dire Dio dice così e tu non lo devi fare e preghi per quella persona però che tu devi stare come una smollata come uno smollato che non dici niente se è responsabile davanti al Signore non è che quello si converte quello fa più per dispetto ma imponiti come credente Signore aiutaci questa mattina in Ezechiele capitolo 3 verso 18 ti voglio leggere questa parola del Signore leggiamolo insieme quando io dirò all'Empio certo morrai se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'Empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita quell'Empio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano leggiamo verso 17 per cortesia figlio d'uomo siamo noi figli d'uomi figli dell'umanità io ti ho stabilito come sentinella per la casa tua per la casa tua almeno quando tu udrai dalla mia bocca una parola tu li devi avverti tu li avvertirai da parte mia Efesini 4 29 è la chiave che tu devi usare per cominciare dagli questa parola nessuna cattiva parola esca dalla tua bocca ma se ne hai qualcuna buona me la dici qualcuna che edifica ti permetto di parlare secondo il bisogno dilla affinché conferisca grazia ma se ne hai parole che non servono e che devi guastare l'armonia della mia vita della mia casa della mia famiglia è meglio che stai zì mi viene in mente un pastore che quando una sorella lo chiamava ti devo dire qualcosa sorella se è qualcosa buona ti ascolta se non è buona non me ne dire perché ce ne sono già tante che io butto via dalla mente che non li voglio tenere questo nel recinto nel nucleo dove sei tu nella famiglia spirituale e nella famiglia naturale devi farlo leggiamo il verso 18 per cortesia Ezechiele 13 18 noi dobbiamo sapere che Dio ci ha chiamato a qualcosa di grande quando io ti dirò questo e ha già detto il Signore che dobbiamo dirlo se tu non lo avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare quel modo di agire e salvargli così la vita quell'empio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano Signore aiutaci tu sei responsabile hai visto il PM nell'ultimo incidente che è successo a Palermo 15 si sono salvati 6 o 7 sono morti il PM ha iniziato dal Capitano i membri dell'equipaggio uno per uno adesso mentre stavo parlando con te perché devo tenere il cellulare acceso per comunicare con la regia perché si spostano dovunque sono è arrivato il messaggio che il PM ha mandato anche a quello che stava nella sala macchine è indagato che quei poveracci hanno cercato di salvarsi la vita ma sono responsabili di quei sei che sono morti qualcuno direbbe ma con quel temporale si salvi chi può ma la legge non ragiona così mi è arrivato il messaggio poco tempo mi è arrivato il messaggio pochissimo tempo fa eccolo qua dopo il comandante indagato anche l'ufficiale di macchine che vuol dire questo perché la legge dice così non possiamo dire come Caino che aveva ucciso il fratello e diceva a Dio non sono io il guardiano di mio fratello noi dobbiamo collaborare perché Dio ci chiama questo perché sono indagati perché non hanno fatto quello che dovevano fare noi come credenti abbiamo l'obbligo di dire ai nostri figli ai nostri mariti e mogli a quelli che fanno parte della nostra famiglia a quelli che vengono in casa nostra dove noi abbiamo l'autorità di poterlo fare di dire per piacere questo non me lo far sentire dobbiamo essere come un martello perché Dio vuole così leggiamo il verso 19 del capitolo 3 di Ezechiele la parola di Dio è per noi non è per Ezechiele questa mattina per te per me ma se tu avverti l'empio ed Egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia Egli morirà per la sua iniquità per cortesia metti rosso ma tu avrai salvato te stesso perché sei indagata anche tu sorella sei indagato anche tu fratello ma tu avrai salvato te stesso l'ultima parte non ci riesce va bene lo vogliamo rileggere lo devi memorizzare e te lo devi scrivere sore per piacere non devi permettere più chi viene a casa tua di straziarti in questo modo perché tu preghi e non ricevi risposte perché cambia l'atmosfera portano immondizie a casa tua e tu pulisci pulisci ma stai sempre sporca c'era un signore che portava l'immondizia nel nostro recipiente si riempiva di roba che non era nostra poi venivano c'era il piazzale il 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 parcheggio si mettevano col cofano della macchina lo lasciavano sotto gli alberi beh ci siamo messi a guardare chi era non era possibile che sta gente se ne va e lascia sotto gli alberi bottiglie tutta roba di plastica buste di immondizie se non glielo permettiamo nell'immondizia visibile perché devono portare immondizia spirituale a casa tua sorella da oggi il signore ti sta responsabilizzando leggiamo il verso 19 è importante ma tu avrai salvato te stesso avrai salvato te stessa perché il signore ci vuole come vigili come come coloro che sorvegliano sui nostri cari perché noi gli vogliamo bene perciò lo diciamo leggiamo il verso 19 ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia egli morirà per la sua iniquità ma tu avrai salvato te stesso anche se c'è uno che prima era fedele sai ci sono di quelli che prima frequentavano la chiesa amorevolmente poi si guastano e cominciano a dire parolacce un'altra volta cominciano a usare anche quelli devono essere ripresi leggiamo il verso 20 per cortesia quando un giusto uno che prima si allontana dalla sua giustizia uno che frequentava amorevolmente era convertito e commette l'iniquità se io gli pongo davanti una qualche occasione di caduta egli morirà perché tu non lo avrai avvertito cioè se quello comincia a peggiorare glielo dobbiamo dire guarda che tu finisci male morirà per il suo peccato e le cose giuste che avrà e le cose giuste che avrà fatte non saranno più ricordate ma io domanterò conto del suo sangue alla tua mano esempio non ti spiego così comprendiamo bene tu avevi il tuo marito che è zelante tua moglie zelante veniva in chiesa e faceva il credente a tutti gli effetti poi piano piano si è sviato si è sviato e comincia a vivere una vita non più da credente glielo devi dire dici guarda che tu finisci male sì ma quello non si converte ma tu glielo devi dire gli ultimi due righe leggiamolo insieme perché se no non comprendiamo la parola del Signore e le cose giuste che avrà fatte prima non saranno più ricordate non è che le ha fatte prima e ora vive disordinatamente e salvato ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano perché noi non lo abbiamo richiamato guarda così tu finisci male glielo dobbiamo dire sì ma quello non mi sta a sentire ma noi ci dobbiamo scolpare davanti a Dio che ci importa noi lo facciamo col cuore non che ci importa già sembra male che lo dico ma per dire noi dobbiamo ubbidire a Dio lui dice che noi glielo dobbiamo dire glielo diciamo col cuore se poi vuole perdersi se hai iniziato una seconda vita con un'altra donna con un altro uomo noi glielo dobbiamo dire che che il Signore non è d'accordo per quello che sta facendo no ma quello va lo stesso ma noi glielo dobbiamo dire dobbiamo dire che dice il Signore riguardo a quello noi come portavoci e responsabili davanti a Dio dobbiamo dire che se commette adulterio va all'inferno dobbiamo dire che se adora gli idoli va all'inferno ma quello poi si offende ma si offende e non si offende noi portiamo la parola di Dio gli diciamo dove lo dice noi siamo portavoci non siamo responsabili della vita degli altri ma siamo portavoci di Dio per dire che quando tu ti pieghi davanti a una statua per pregarla il Signore lo viete e ti punisce e così lo dice il Signore quando tu vai con un'altra donna e mi hai lasciato a casa con i figli io ti devo dire che quella via ti porta alla perdizione non possiamo dire vabbè tanto non succede niente non succede qualcosa Signore aiutati oggi noi credenti dobbiamo sempre anche tra credenti questo ci aiuta ad essere salvi noi e gli altri perché se no noi restiamo responsabili noi leggiamo il verso 21 però se tu avverti quel giusto o il giusto che sia perché non pecchi e non pecca egli certamente vivrà perché è stato avvertito e tu avrai salvato te stesso quanto è bello questo verso quanto è bello questo verso e non solo ma vedrai la risposta delle tue preghiere perché quando tu onori Dio Dio onora te vuoi essere onorata da Dio vuoi essere onorato da Dio onora Dio perché quando dici a un altro non bestemmiare tu stai dicendo di onorare Dio sei una serva di Dio che stai dicendo a un'ipocrita che bestemmia proprio perché ci sei tu e tu stai zitto è come se ti dessero schiaffe e tu stai zitta come se portassero immondizie a casa tua e tu dici va bene non fa niente poi me la tolgo io no 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 per cortesia non è portare più a casa mia immondizie se devi venire per portare immondizia ti prego no ma quello ma quello non cambia lo stesso Dio suocero era un cristiano disciplinato ma così devono essere i cristiani così dobbiamo essere sua moglie bestemmiava lui diceva quando sei a casa ci sono io tu non devi bestemmiare tutto il resto ti voglio bene tutto quello che il Signore poi l'ha convertito perché man mano quando noi perseveriamo nel dire il male che è male il bene che è bene allora il Signore opera e gloria sia resa a Dio noi siamo responsabili di mantenere la luce accesa dove Dio ci ha messo sorretti io ti voglio bene nel Signore fra te anche a te ti voglio un bene pazzo pazzo perché Dio lo ha messo così forte nel mio cuore e ringrazio Dio per le esperienze lungo il percorso del mio cammino ringrazio Dio che prima che avessi lasciato la Chiesa mi impose con alcuni membri di dire tu li devi voler bene e basta ma una voce forte quando poi lasciai la Chiesa se avessi voluto dire tutto quello che mi sorgeva nel cuore sarebbero stati litigi continui e invece pure lì il Signore mi salvaguardò dicendo non devi dire mezza parola per me sì mi chiedevano ma come è successo dico beh il Signore mi ha chiamato dicevo solo il Signore mi ha chiamato a portare avanti parole di vita mi ha detto che mi ha dato una missione che è più grande della Chiesa e io ho obbedito basta io ringrazio Dio per questo perché mi ha evitato spifferi su tutto il territorio nazionale a Dio sia la gloria vogliamo ringraziare Dio riascoltati questo messaggio condividilo con i credenti perché oggi molte preghiere non vengono esaudite a causa della nostra negligenza troppe finestre aperte e la nostra casa è sempre fredda troppa immondizia che viene portata e noi stiamo zitti l'esempio del PM che sta prendendo tutti i membri dell'equipaggio come responsabili di coloro che sono morti ed era un terribile incidente che là veramente ognuno doveva cercare di salvare se stesso ma la legge dice la parola di Dio è legge è la legge divina e noi dobbiamo seguirla preghiamo insieme signore ti vogliamo ringraziare per la tua parola fa che da questo giorno che tu ci hai parlato in questo modo possa lo Spirito Santo responsabilizzarci per fare quello che piace a te onorare te e permettere agli altri che dove siamo noi in autorità non disprezzino te in nostra presenza nel nome di Gesù amén amén amén